bello a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su un nuovo gioco Mad Max vediamo un po' ok dove dovrei andare? trova l'acqua ok 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 I can I can fix it but I do my best work in my side saying car I need wire to fix my buggy, and I can show your where they took the black on black. dove trovo il wire? up that path but before you go grab some grids saint you must be running on fumes mmmm fari fornimento ottimo us informazioni ok punto ok ok come faccio a vivere ora perchè già la salute all'estremo ok allora dove devo andare di qua devo fare tutto il giro ehm oh cazzo cazzo cavolo è quello no not yet ok non 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 ma non Calvary Ok Ok I heard the bloody sounds of a smackdown You're not an idiot are you? Tell me you're not a geek Huh? Praise be! Praise be! My buggy's just over here, follow me What are you doing? What are you doing? Come, 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 come! This way! Easy dog Easy Grab it up and go, Saint! The park is humble, but she can call Yes Ah, okay, I'm using it Prima 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 E' E' Bello Che guidata ragazzi Che guidata Oiii 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 Sì, da questo punto di vista, potremmo potremmo trovare il vostro auto. Possiamo vedere il camp, là, senza rischio di rischio. Questa è la scuola. La scuola. Una scuola. Produs sempre mantiene le pezze per lui, vedete? Ma non è qui ora, vedete? Non vedo il paio che abbiamo avuto. Sto portando il carro. Sì, 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 sì! Ho un'idea! È meglio per te e per me! Sì, guardate! Il Black on Black è tosato, è scratto, è fuori! Non sarà mai più soli! Ora io... Posso creare un carro, un'altra che è più forte che è più forte che è più forte! così è più forte! È più forte! Molto di più forte! più forte che il cibo! Più più forti! Più più forti che i ghiacchi! Voi, vieni con me! Non ti non ci vediamo! Non ti prenderò in tabernacolo e quando ci vediamo cosa che vi mostrerò, ti saranno bello tutti sempre! Ottimo! ok ragazzi la prima missione l'ho completata ciao